Oggi siamo qui a Milano per firmare due grandi finanziamenti con Biterra, una banca con un gruppo finanziario con cui abbiamo già lavorato in passato e anche grazie a questa consolidata esperienza che abbiamo sviluppato siamo molto lieti di firmare due altri strumenti. Una garanzia per 150 milioni che permetterà di offrire sempre maggiori finanziamenti alle piccole e medie imprese e alle mid-cap che rappresentano la statura portante dell'economia italiana e una linea di credito di 500 milioni, oggi ne abbiamo firmati i primi 200 milioni e questi sono dedicati anche e soprattutto a sostenere le piccole e medie aziende e le mid-cap nei loro processi di sostenibilità finanziaria e parte di questa sarà dedicata anche al mezzogiorno, alle zone di poesione. Obiettivi questi per la BAY molto importanti, noi siamo la banca del clima dell'Unione Europea e sempre di più vogliamo che i nostri finanziamenti siano rivolti alla sostenibilità ambientale una sostenibilità ambientale che non deve rappresentare un vincolo, ma una grande opportunità, una grande opportunità anche per la riduzione dei costi delle imprese. Sappiamo quanto l'energia è diventata cara, quanto i costi dell'energia siano diventati importanti e quindi investire nell'efficientamento energetico, investire nell'innovazione, in tutti quei processi che possono ottimizzare la produzione, che possono essere più sostenibili nel lungo periodo, danno maggiori prospettive di crescita. La BAY ha negli ultimi due anni sviluppato un nuovo prodotto, un link risk sharing, che è appunto un prodotto per liberare parte del capitale dei studi, dei rifizi, in modo che loro possano creare dei nuovi portafogli di prodotto. Questa è la prima operazione che facciamo in Italia e siamo molto contenti di farla con Microbanca. Grazie a tutti.